un saluto a tutti cari simici bentornati per questo nuovo video come vedete mi vedete nel piccolo riquadrino accanto accanto a cosa accanto al mio ups ups un piccolo gruppo di continuità che sicuramente tutti voi sapete a cosa serve serve naturalmente a mantenere alimentato un qualsiasi dispositivo elettrico quando va via la corrente di solito questi piccoli ups si utilizzano per alimentare i pc ma noi che ci occupiamo ci occupiamo di domotica siamo particolarmente attenti alle applicazioni di domotica perché cosa utilizziamo questi ps per esempio io lo utilizzo per alimentare il mio quadretto lan dove praticamente c'è la sorgente dove nasce la connettività del mio del mio appartamento del mio alloggio e quindi dove c'è il router in modem dell'operatore telefonico dove c'è lo switch dove ci sono tutti i cavetti lan che vanno ad alimentare i vari punti rete dove prendono l'alimentazione anche gli access point quindi per il wifi e alimento anche le telecamere di video sorveglianza e alimento anche il pc che ospita home assistant insomma tutta la mia domotica è protetta da un gruppo di continuità per quale motivo perché il gruppo di continuità è così importante nelle applicazioni di domotica perché naturalmente soprattutto per quanto riguarda la sicurezza vogliamo fare in modo insomma che anche se un qualche malintenzionato un pochino più evoluto dell'adruncolo così semplice 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 da appartamento ci stacchi la corrente quando prima di entrare nel nostro appartamento almeno rimane in piedi internet quindi rimangono in piedi magari i vari sensori porta finestra che ci vanno ad allertare quando viene aperta la porta una finestra rimangono attive le telecamere di video sorveglianza e quindi possiamo vedere un attimino al volo almeno per pochi minuti dopo che arriva la corrente che cosa è che ha innescato questo alert e quindi continua a funzionare per un po di minuti il tutto naturalmente più è grosso più 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 capiente più capacità alla batteria interna gruppo di continuità maggiore sarà l'autonomia che il servizio insomma maggiore sarà l'autonomia garantita per il servizio di connettività dei vari apparati domotici ecco perché è importante mantenere in efficienza il gruppo di continuità è un gruppo di continuità come il mio io quando ne ho acquistato uno acquistato uno abbastanza economico perché non doveva mantenere in piedi una centrale nucleare ma piccoli apparati che consumano poco ho comprato questo piccolo gruppo di continuità che però insomma chi ha questi dispositivi sa bene che dopo due o tre anni circa le batterie iniziano a un pochino ad essere meno efficienti per non dire che smettono completamente di funzionare quindi è come quasi non averle non averli a disposizione perché appena si spengono quindi rimane un costoso un costoso neanche tanto rimane un bel pezzo di ferro inutile che non assolve al suo dovere e quindi in questo video andrò a mostrare come non c'è bisogno di comprare un ups nuovo ma è sufficiente sostituire la batteria all'interno si può sostituire la batteria all'interno ecco qui questa è quella che ho tirato via già ve lo faccio vedere perché poi lo vedrete durante il video ho tirato via la batteria del mio ups e ne ho comprata un'altra bene giusto per fare due considerazioni sul risparmio che questa operazione comporta il gruppo di continuità mio abbastanza economico costa circa una settantina di euro se lo vado a ricomprare nuovo la batteria l'ho sostituita tra l'altro con una più performante di quella in dotazione che era una semplice batteria se non mi sbaglio da 5 ampere ore c'è scritto qui da qualche parte non so se c'è scritto penso sia questo ecco sì sì c'è scritto 12 volt 5 ampere ore l'ho sostituita con una da 7 ampere ore se non ricordo male ma nel video a un certo punto lo evidenzi quindi il nostro studio con più più performante che mi garantirà insomma una maggiore durata della una maggiore durata dei dispositivi alimentati quando va via la corrente elettrica e l'ho pagata solamente 24 euro su amazon probabilmente possibile reperito online anche ad un prezzo minore quindi un netto risparmio rispetto a cambiare completamente l'ups quindi se l'ups non funziona più non buttatelo via basta svitare quattro viti staccare la batteria ecco qua negativo e positivo e rimetterne una chiaramente sempre dello stesso voltaggio ma anche di amperaggio maggiore qualora il dispositivo accetti una batteria più grossa di dimensioni perché di solito un amperaggio maggiore corrisponde una dimensione maggiore della batteria e quindi nel frattempo che ho parlato credo che il video sia andato abbastanza avanti avete visto un pochino tutta l'operazione di montaggio sbontaggio che richiede veramente pochissimi istanti e la rimessa in funzione dell'ups bene carissimi amici spero che questo piccolo video insomma sia stato interessante per voi è una piccola indicazione insomma di quello che potete fare per rendere un pochino più efficiente la vostra domotica bene vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video un saluto amici ciao